Ciao a tutti, io sono Gioele, sono un dottorando in chimica al secondo anno e prima di essere un dottorando sono stato anch'io uno studente del corso di laurea magistrale in chimica all'Università degli Studi dell'Insubria. Perché ho scelto questo corso di laurea e questo Ateneo? Prima di tutto per la formazione che sapevo sarebbe stata in grado di fornirmi. In secondo luogo per la possibilità di personalizzare il proprio percorso di studi, soprattutto durante il secondo anno del corso magistrale in base ai propri interessi. Anche il clima estremamente familiare che già conoscevo dalla mia esperienza durante il corso di laurea triennale è stato uno dei punti a favore che mi ha portato a prendere questa scelta. E non ultimo anche le possibilità lavorative che sapevo ci sarebbero state una volta ottenuta la laurea magistrale.